Potenziare i servizi e dunque anche la pianta organica per dare risposte ad un territorio interno sempre più bisognoso di attenzione e rilancio. L'avvocato Nicola Boccalone con una lunga carriera alle spalle tra i suoi incarichi si annoverano quelli di city manager al comune di Benevento, di direttore generale del nosocomio Rummo, di manager di Irpini Ambiente e oggi di direttore generale della provincia di Benevento ha già le idee chiare rispetto alla resurrezione del ruolo dell'ente che dovrà recuperare la funzione strategica e vitale di un tempo uscendo da uno stato comatoso e da una condizione ibernata per poter assurgere al ruolo guida che l'ultimo provvedimento normativo le ha strappato diventando così pronto soccorso istituzionale sintesi tra i territori e gli altri enti sanniti nonché campani per centrare l'obiettivo targato concretezza e risultati. Un nuovo prestigioso incarico? Sì, è una nuova esperienza anche se in un ambiente sicuramente non lontano da quelle passate, è una dimensione sicuramente diversa perché questo è il primo ente dopo tante esperienze vissute in una dimensione diversa nel senso che è l'unico ente che non è dissestato, che non ha problemi diciamo di commissariamento ma che sicuramente il problema che ha è quello strutturale perché dopo la del riga sicuramente l'ente provincia ha un problema di dimensioni e di ricollocazione nell'ambito della fedele istituzionale per come dire recuperare se stessa nell'ambito di una articolazione istituzionale che sicuramente ha bisogno di essere rinnovata e rivisitata perché così com'è sicuramente è in una fase di stasi che bisogna sicuramente recuperare. Quali sono le priorità per risollevare le sorti dell'ente provincia? Quali sono le cose da fare? Diciamo che sono venuto sicuramente credo che sia necessario un momento di analisi, una fase di analisi, di studio, di approfondimento per capire quali sono le potenzialità, potenzialità che le altre sono poi connesse al sistema normativo che governa gli ente in particolare le province. Mi pare che la prossima finanziaria dia preveda delle aperture sul piano della stretta lettura aziendale, cioè nel senso sotto il profilo del decuramento del personale, la possibilità di riaprirsi al mondo della finanza attraverso prospettive nuove e quindi questi due aspetti sono sicuramente importanti per capire quali sono le prospettive senza però non si può mantenere conto per questa provincia qual è la reale situazione e dimensione rispetto a un problema molto importante che è quello dei servizi pubblici, in particolare mi riferisco ai rifiuti. Cioè il ciclo integrato dei rifiuti che ha bisogno sicuramente di un approfondimento particolare perché in un sistema consolidato di rapporti e di dinamiche economiche rischia ovviamente di alterare gli equilibri economici di casa madre, cioè della provincia. E quindi occorre necessariamente fare un ragionamento nuovo, una rivisitazione complessiva del sistema e magari immaginare nuovi orizzonti. Quali sono questi nuovi orizzonti? In sostanza che idea di provincia ha? L'idea dal punto di vista strettamente tecnico, poi chiaramente le visioni sono quelle politiche che non mi appartengono, appartengono sicuramente a una dinamica diversa, ma dall'analisi strettamente tecnica e sicuramente molto spesso quando si ha un approccio ai servizi pubblici ci si accorge che la dimensione, la criticità più importante è quella umana, cioè delle persone. Abbiamo una provincia di 280.000 persone con una dimensione territoriale molto larga, molto vasta e questo diciamo così da una parte è una grande fortuna che il nostro bene primario è il territorio, che però l'ha preservato, l'ha preservato con politiche mirate, con politiche di territorio importanti, decise, chiare, in rapporto alla dimensione dei servizi pubblici che attendono ovviamente, di cui sono destinatari i cittadini, per le quali pagano ovviamente, contribuiscono partecipando al sistema impositivo e contributivo in relazione ai servizi che riceve. Sicuramente da una parte sono dati importanti quel territorio, ma sono a volte dati preoccupanti perché è come avere per esempio una villa di mille metri quadrati e una volta ci abitavano cinque persone o ci abitavano due. Domanda, hai la sostenibilità economica e finanziaria per mantenere questo tipo di impostazione o devi ricalibrare te stesso, riimmaginarti e cercare di dare un'utilità diversa al patrimonio che hai? Queste sono interrogativi, domande che bisogna porsi prima di immaginare una nuova proposta, una nuova articolazione di attività che però potrebbero tenere conto anche dei rapporti con le province limitrofe. Sicuramente già questo accade per esempio su alcuni servizi, su alcuni versanti, su alcuni profili, da quelli politici a quelli sindacali, su alcuni settori tipo la sanità, c'è una sintesi per esempio il Pignasagno, su alcune altre c'è una sintesi che il Pignasagno è caserta, cioè vuol dire ci sono sul versante per esempio sindacale, le sigle sindacale ormai sono tutte proiettate su il Pignasagno, i collegi elettorali sono tutti il Pignasagno, cioè vuol dire c'è una dinamica a monte, a valle, in modo collaterale, di cui non si può non tener conto nella evoluzione di un pensiero, di un'idea, di un progetto, di un programma che dovrebbe portare poi a una sintesi generale.